Solo qualche settimana fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di essere in dolce attesa. La coppia, conosciutasi al grande fratello VIP4, aspetta un maschietto e Clizia Incorvaia ha pubblicato le prime foto in cui appare molto sensuale con il pancione, che sta crescendo. Da poco è stato anche svelato il sesso del nascituro, un maschietto. Per Clizia Incorvaia si tratta del secondo figlio, in quanto l'attrice ha già avuto una bambina, Nina, dal suo matrimonio con Francesco Sarcina. Il cantante delle vibrazioni con cui la storia si è conclusa in maniera molto brusca e polemica. Ricordando la gravidanza precedente, Clizia ha sottolineato quanto si era sentita sexy in quel momento, e così ha pubblicato le prime foto sensuali. Con il pancione Clizia Incorvaia, infatti, ha postato su Instagram due scatti allo specchio in cui, indossando solo l'intimo, mostra il pancione appena pronunciato. Gravi panza Prima foto con il pancione, ha scritto l'attrice. Orgogliosa di veder crescere la pancia, quando è già arrivata alla dodicesima settimana. Anche con questa seconda gravidanza, Clizia Incorvaia è più bella che mai. Per lei sono arrivati tantissimi complimenti da parte dei followers. Sei perfetta, hanno scritto all'attrice.